... Mentre allestiamo il nostro studio per trasformarlo in una piccola cucina, andiamo a Ceglie Messapica, dove il centro storico è diventato una grande tavolata. Scopriamo perché con l'inviato. Marcello Favale. Se i francesi sono i re del formaggio, anche in Italia non siamo molto lontani da questi record. E in Puglia le vie del formaggio si popolano sempre più di aziende grandi e piccole che puntano sulla qualità coniugata con la tradizione e i sapori più antichi. Ceglie Messapica ha rinnovato nei giorni scorsi il suo ruolo di capitale enogastronomica di Puglia organizzando Ceglie Cheese, appuntamento dedicato ai formaggi prodotti nelle masserie della Valle d'Itria dove pascolano capre, pecore e mucche che forniscono il latte che aziende e famiglie trasformano in prodotti che hanno conquistato il palato di buongustai dentro e fuori della Puglia. Gli operatori della gastronomia cegliese hanno puntato su questi prodotti per un vero festival del formaggio. Un ricco patrimonio di eccellenze gastronomiche che affondano le loro radici nel territorio pugliese valorizzate dai presidi slow food ma riscoperte anche dai cultori che girano ormai per masseria alla ricerca del produttore che riesce a conogare qualità e sapori. E così il centro storico di Ceglie si è trasformato in una grande masseria per le degustazioni che hanno deliziato il palato di tanti visitatori che hanno poi concluso la loro escursione nei ristoranti cegliesi che hanno preparato menù con una presenza massiccia di piatti con i formaggi locali. Una manifestazione che ha avuto un grande successo e che sarà riproposta ed arricchita nelle prossime edizioni dalle associazioni Ceglie e Buonapuglia che l'hanno presentata con grande intuito commerciale e turistico. Abbiamo un mondo da scoprire sul latterio caseario è molto interessante come prodotti, come tutto perché stiamo scoprando delle cose bellissime oggi affluenza di gente tantissima come primo anno speriamo di andare avanti i prossimi anni e farla ancora più grande per dimostrare la materia prima che abbiamo in questo territorio Puglia.